Sei, la prima volta che conosci una donna, anche una donna magari impegnata nel mondo del giornalismo, della moda, pubbliche relazioni, portarla qua la prima volta. Sai, uno a volte sta lì e pensa, ma la porto a Piaua, una cenetta a Brera, così, portala qua, verso quest'ora. Io penso che lei potrebbe innamorarsi, o scappa subito perché dice, ragazzi qua, portare qua una donna la prima volta vuol dire che uno non ha testa, però se ti fai vedere così, lei dice, mi innamoro di più.